Il Signore disse poi a Mosè, dirai ai figli di Israele, chiunque tra i figli di Israele e i residenti in Israele dia un suo figlio a Moloch, si è messo a morte. La gente del paese lo lapidi. Io mi volgerò contro quest'uomo e lo eliminerò di mezzo al suo popolo, perché ha dato uno dei suoi figli a Moloch per rendere impuro il mio santuario e profanare il mio santo nome. Se la gente del paese chiuderà gli occhi davanti a quest'uomo mentre dà un suo figlio a Moloch senza metterlo a morte, sarò io a volgermi contro quell'uomo e contro la sua famiglia ed eliminerò lui di mezzo al suo popolo e tutti quelli che si prostituiscono seguendo lui nel prostituirsi a Moloch. Se uno si volgerà agli spettri e agli indovini prostituendosi dietro di essi, io mi volgerò contro quest'uomo e lo eliminerò di mezzo al suo popolo. Santificatevi e siate santi, perché io sono il Signore Dio vostro. Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi santifica. Chiunque maledirà suo padre e sua madre si è messo a morte, ha maledetto suo padre e sua madre. Il suo sangue ricada sopra di lui. Chiunque commetta adulterio con una donna sposata, chiunque commetta adulterio con la donna del suo prossimo, siano messi a morte l'adultero e l'adultera. Chiunque abbia giaciuto con la moglie di suo padre, ha scoperto la nudità di suo padre, siano messi a morte ambedue, il loro sangue ricada su di essi. Chiunque abbia giaciuto con la nuora, siano messi a morte ambedue, hanno compiuto un'oscenità, il loro sangue ricada su di essi. Chiunque abbia giaciuto con un uomo come si giace con una donna, hanno compiuto tutti e due un'abominazione, siano messi a morte, il loro sangue ricada su di essi. Chiunque prenda per moglie una donna insieme a sua madre, è un incesto, si bruceranno lui e loro, affinché non ci sia tra di voi tale incesto. Chiunque abbia dato il suo giaciglio a un animale, sia messo a morte, e l'animale l'ucciderete. Se una donna si avvicina a un animale per accoppiarsi con esso, ucciderai la donna e l'animale, ambedue siano messi a morte, il loro sangue ricada su di essi. Se un uomo prende in moglie sua sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, ne vede la nudità, ed ella vede la nudità di lui, è un'ignominia. Siano eliminate alla presenza dei figli del loro popolo. Ha scoperto la nudità di sua sorella, porti le conseguenze del suo peccato. Se un uomo ha giaciuto con una donna durante le sue regole, e ne ha scoperto la nudità, ha messo a nudo la fonte del suo sangue, ed essa ha scoperto la fonte del suo sangue, siano eliminati ambedue di mezzo al loro popolo. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella di tuo padre, perché scopriresti la sua stessa carne. Ambedue porteranno il peso del loro peccato. Un uomo che abbia giaciuto con la propria zia, ha scoperto la nudità di suo zio. Portino il peso del loro peccato. Muoiano senza figli. Se uno sposa alla moglie di suo fratello, è una impurità. Ha scoperto la nudità di suo fratello. Non abbiano figli. Osservate tutte le mie leggi e tutti i miei precetti e metteteli in pratica, e la terra in cui vi conduco per abitarla non vi vomiterà. Non comportatevi secondo le leggi dei popoli che scaccio davanti a voi, perché essi hanno fatto tutte queste cose e io mi sono disgustato di loro. Ma a voi dico, voi prenderete possesso della loro terra e io ve la darò in possesso, una terra che stilla latte e miele. Io sono il Signore Dio vostro che vi ha separato di mezzo ai popoli. Separate gli animali puri da quelli impuri e gli impuri dai puri fra gli uccelli e non contaminatevi con gli animali e con gli uccelli e con qualsiasi bestia che strisci sul suolo che io ho separato per voi come impuri. Siate santi per me, perché santo sono io il Signore e vi separo dai popoli per essere miei. Un uomo o una donna fra voi che sia negromante o indovino sia messo a morte, li lapiderete, il loro sangue ricada su di loro.